Allora, io vi dirò una parola in italiano e subito dopo, in corsivo. Amio si dice amio. Guarda, tocca a te. Amio. Potresti migliorare. Verifica si dice verionfica. Vai. Verifica. Alunna si dice alunna. Alunna. No, qua per niente meriteresti un due. Brutta zoccola, hai rotto il mio emerito, caso tu e il corsivo di merda dovrai bruciare con i lanciafiamme. Marciゲero. Mangerna e cerchi. Sparato. 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 Sparan. Sparato. ARGH! 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 MA CASSI GIOKER Ci sono già altre persone che fanno questa cosa! ARGH! ARGH! FREGA CAZZI! ARGH! 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 ARGH!